Guarda chi c'è. Yuri, sei proprio tu? No, grandissimo! Ehi, Yuri, ci fai vedere qualcosa con gli anelli? Sì! Dai, Yuri, faccio il numero! Yuri, Yuri, Yuri! Vieni, per sicurezza. Oh, grande! Dai! Ehi, Yuri, ma hai guanti al caschetto? Questi li tengo io, per sicurezza. Biluoki. Sicurezza. A prova di campioni. Cosmicron turnic. Guarda qui. eineび quella.